Tutti i componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta presenti in aula durante la Maratona del Bilancio ed il personale del Comune dovranno osservare un periodo di quarantena fiduciaria. Ad accendere i riflettori sulla politica locale è stato il caso della consigliera esponente di Fratelli d'Italia, risultata positiva al Covid-19. Dall'ASP fanno sapere che è stato avviato il tracciamento del caso per tutti i contatti diretti della consigliera dell'opposizione positiva. Il risultato del primo tampone di oggi non è indicativo, fanno sapere dall'ASP di Caltanissetta. Tutti i contatti diretti dovranno ripeterlo anche nelle prossime 48 ore. Comunque ognuno di loro dovrebbe osservare da subito l'isolamento fiduciario. Dal risultato del tampone di oggi, comunque aggiungono dall'ASP di Caltanissetta, disporremo la quarantena per tutti i soggetti venuti a contatto con la consigliera. Il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Sammito, dal canto suo augura solidarietà e pronta guarigione alla collega risultata positiva al Covid-19. Tanto solidarietà e pronta guarigione alla collega che è positiva, questa è doverosa da parte mia e del Consiglio Comunale. Ricordo a me stesso che anche l'Ola Consigliare, così come l'ha detto alla sicurezza, è dotata di tutte le misure anti-Covid che sono necessarie perché venga svolto il Consiglio Comunale. Manderemo più tardi una nota all'ASP con l'esito dei tamponi di tutti i consiglieri comunali e dopo valuteranno quelle che saranno le azioni da andare a prendere, se ce ne saranno. Una buona fetta è già venuta a farla, alcuni stanno venendo perché si trovavano in altre zone del paese, anzi ringrazio gli operatori dell'ASP che stanno attendendo fino alle ore 13 la possibilità che i ritardatari possano venire. Quindi ritengo che entro la fine della giornata tutti effettueranno il tampone e se confermeranno quello fatto ieri, così come sono sicuro e auspico dai laboratori convenzionati, dovrebbero essere tutti negativi. Rispetto alla situazione invece il Consigliere Rosario Faragi si mostra polemico. Quando avevamo chiesto di fare la seduta in modalità mista, questo era un modo per poter agevolare chi magari ha in quel momento impossibilità per qualsiasi motivo, anche per motivi familiari, per motivi impegni di lavoro e non solo, da partecipare alla seduta in modo da alleggerire l'aula e mettere meno. Siamo stati criticati, non abbiamo capito il motivo, però evidentemente l'intuizione non era proprio malvagia. Intanto il Consiglio Comunale resta sospeso per tutto il mese di agosto e le eventuali commissioni si effettueranno solo in remoto. Tra i consiglieri comunali c'è anche un dipendente dell'USCA provinciale. I lavori di Consiglio Comunale sono stati già sospesi la settimana scorsa per la pausa estiva, quindi i lavori di Consiglio Comunale non ce ne saranno per tutto il mese di agosto. Non ci saranno lavori delle commissioni, qualora dovessero farle verranno fatti a remoto e ripeto, se dovessero essere positivi non ci sottrarremo sicuramente alla quarantena che l'Aspi ci indicherà qualora ce la indicasse.